Grave aggressione ai danni di un infermiere del 118 ad Agropoli a denunciare i fatti l'associazione Nessuno Tocchi Ippocrate impegnata sul territorio nazionale a difesa del personale sanitario. Secondo una prima ricostruzione il personale del 118 di Capaccio Licinella è intervenuto su chiamata della centrale operativa per una presunta perdita di coscienza in un'abitazione di Agropoli. All'arrivo dell'ambulanza però un pregiudicato di 34 anni ha aggredito l'infermiere intervenuto con calci e pugni costringendolo al trasferimento presso il pronto soccorso di Vallo della Lucania con una prognosi di due giorni. L'aggressore è stato identificato e fermato dai carabinieri della compagnia locale ma la sua folle rabbia non si è fermata a questo episodio. Il 34enne il giorno successivo al pestaggio all'infermiere del 118 ha violato la misura cautelare e probabilmente sotto effetto di un mix di alcol e stupefacenti ha raggiunto l'abitazione dell'ex fidanzata quarantenne minacciandola di morte e aggredendola in preda a un raptus di gelosia. A farne le spese è anche la proprietaria dell'immobile una settantottenne che nel tentativo di difendere la donna dal pregiudicato è stata percossa. L'uomo si è poi dato alla fuga ma raggiunto dai carabinieri ha picchiato anche i militari prima di essere ammanettato. Il 34enne dopo una breve sosta presso l'ospedale di Vallo della Lucania per medicare le ferite riportate nelle varie colluttazioni è stato trasferito in carcere. Per lui l'accusa di violazione agli arresti domiciliari, minacce, maltrattamenti, resistenza e lesioni nei confronti di cinque persone di cui due pubblici ufficiali.